Tre immobili a Santa Croce e Camerina confiscate alla mafia potrebbero quanto prima essere acquisiti dal Comune. Ne sono convinte a Palazzo di Città con l'assessore Filippo Frasca dopo la nota firmata al sindaco Giovanni Barone indirizzata agli organi competenti che ha spiegato che sarà un presidio attivo di legalità nel contesto di una battaglia quotidiana da portare avanti con forza. Si tratta di tre villette incontrate a chiuse nuovi finaiti nei pressi di Caucana. Il valore di mercato loro attribuito si aggira intorno ai 78.000 euro ad immobile e della disponibilità al trasferimento che avverrà a titolo gratuito il Comune ha già informato la Prefettura di Ragusa. I tre immobili arricchiranno quindi il patrimonio immobiliare del Comune Camarinense che in una fase successiva deciderà la loro destinazione d'uso ad esempio a scopo abitativo per famiglie bisognose oppure per attivare consorzi o attività produttive. Il resto è il fatto, rimarcano dal Comune, che arricchiranno la potenzialità economica di Santa Croce e Camerina.